Ciao, se stai cercando le domande dell'esame di economia e gestione finanziaria delle imprese del professore di Betta e studi di economia e amministrazione aziendale, è il 18 a Palermo, all'università di studi di Palermo e alla facoltà di economia, guarda attentamente questo video perché sto per mostrarti come scaricare gratis le domande dell'esame del professore di Betta, grazie al portale Appunti Condivisi, che è il primo portale in Italia che permette la condivisione tra studenti universitari di materiale didattico, quindi domande dell'esame, appunti riassunti eccetera, specifico per la tua università, facoltà e corso di studi. Puoi registrarti gratuitamente su Appunti Condivisi cliccando nel link che trovi qui sotto e una volta esserti dopo che sei registrato farai accesso e atterrai su questa schermata qui in cui potrai appunto scaricare il materiale che ti serve, quindi inserirai i dati, l'università di studi di Palermo, facoltà di economia, l18 economia e amministrazione aziendale, economia e gestione finanziaria delle imprese di Betta, domande dell'esame, cliccando sul tasto cerca, quello che troverai sarà questo file qui, domande di finanza aziendale, scaricato 11 volte, è un file molto precioso, poi qui sotto trovi tutta una serie di video che ti possono essere utili per approfondire la materia, la registrazione al portale è gratuita, quindi mi raccomando registri cliccando sul link che trovi qui sotto o scrivendo su Google Appunti Condivisi e quindi se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace, se hai dubbi o domande scrivi un commento qui sotto, se vuoi approfondire ancora di più e entrare nella nostra famiglia di Appunti Condivisi ti basterà accedere al gruppo Facebook Appunti Condivisi, anche lì l'accesso è gratuito e mi raccomando iscriviti a questo canale YouTube perché rimarrai aggiornato costantemente per ogni novità, per ogni nuovo file che viene caricato sul sito tramite una notifica tramite email. Ciao e ci vediamo al prossimo video.